Credo con certezza di poter rappresentare il sentimento legato al concetto di casa e alla definizione di casa a Podenzana nel focolare. La casa è quella che hai dentro e quella che ti porti dietro in tutti i luoghi in cui vai e quindi forse lui lo vuole rappresentare in questo in questo modo il fatto che anche se la sua casa è lontano lui di qua non conosce nulla però ce l'ha sempre con sé. La foto di una casa di una casa calda di una casa che mi dà famiglia e mi dà la sensazione proprio di tradizione di qualcosa di focolare qualcosa che mi richiama comunque sempre il panigaccio volendo. What's been really interesting is that image which was made two years ago depicts my parents' house and my parents have lived in that house in England for 45 years and I grew up in that house for the first 18 years of my life and so as an artist and curator I'm really interested in the home as a space of inquiry. Part of our ambition for the workshop is to slowly populate the church with responses, writing, dialogue and photography from the workshop as a way of creating an exhibition around the film. L'arte l'arte per me è questa io non ho nessuna capacità artistica non serve all'artista serve agli altri serve al mondo quindi è tutto qui il segreto secondo me dell'arte tutte le volte che riesce ad emozionarci è arte in un l'arte per me è così l'arte per me è quello che mi 사용i è così Grazie a tutti.